Falta l'ordinanza sul numero chiuso a Calaluna dopo le polemiche e l'incontro di questa mattina tra il prefetto di Nuoro e i sindaci di Dorgali e Baunee. È arrivata la decisione di rimandare il provvedimento alla prossima estate. Simona De Sole. Non ci sarà nessuna ordinanza. Il dietro fronte della sindaca di Dorgali, Angela Testone, arriva dopo l'incontro con il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, al quale ha preso parte anche il primo cittadino di Baunee, Stefano Monni. Le due amministrazioni comunali, che da tempo si contendono la giurisdizione su Calaluna, lavoreranno al numero chiuso per la spiaggia solo a partire dal prossimo ottobre, in vista della stagione 2024. Dopo le polemiche e le lamentele da parte di molti operatori turistici, salta dunque il provvedimento annunciato da Tessone giorni fa e che sarebbe stato valido dal 1 agosto al 15 settembre. Il prefetto riconosce la priorità del bene ambientale e delle politiche ambientali. esprime, come ho espresso io, la preoccupazione per le tante sollecitazioni che sono arrivate da tutte le parti, per non dire quasi minacce, e quindi nel salvaguardare il territorio vuole salvaguardare anche l'istituzione. Intanto per garantire la tutela del litorale, per evitare il sovraffollamento in questi mesi estivi, il prefetto emanerà una circolare che sarà fatta rispettare dalla polizia sia in mare sia in terra.